Ciao, nel video di oggi vediamo 5 modi in cui ti rendi repellente senza saperlo agli occhi di una donna e la cosa più paradossale è che mentre lo fai magari pensi anche di starci provando con lei. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Jody Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Partiamo da un presupposto teorico. Se tu fai percepire a una donna che la vuoi e che la percepisci come meglio di te lei perderà interesse, il 99,99% periodico delle volte. E uno dei modi per fare questo è darle troppa validazione e soprattutto troppa validazione rispetto a quello che lei ti dà in ritorno. Quindi vediamo gli errori che fai. 1. Guardarla troppo con insistenza. Mentre quando sei un po' più esperto a volte un gioco di sguardi può aiutare se fatto in maniera corretta a aumentare quella che è la tensione fra di voi, molto spesso quando sei a un livello principiante in realtà incasina soltanto le cose ed è molto meglio se ti piace una ragazza andare subito ad approcciarla seguendo quella che è la regola dei tre secondi. altrimenti rischi di non capire chi desidera il tuo sguardo e per quanto tempo tenerlo e l'unica cosa che fai è validare troppo la ragazza in questione. 2. Le metti like su Instagram, la segui, le mandi DM e questo è particolarmente vero soprattutto quando la ragazza non ti dà alcunché in ritorno e magari non sa neanche della tua esistenza e in quel caso addirittura diventi patetico. 3. Le mandi messaggi inutili tipo del buongiorno, della buonanotte, come stai e compagnia cantante. Tutta questa roba non serve a nulla e non spinge la chat in nessuna direzione e quindi le dà solo validazione. Per capire come messaggiare in maniera corretta ci sono tutti quelli che sono i miei corsi sui messaggi e ti lascio i links in descrizione se vuoi approfondire. 4. Far diventare il provare a portarla fuori una caccia all'uomo o meglio alla donna in questo caso. Cosa intendo? All'inizio quando sei un principiante o super principiante ci sta in seguire un po' la ragazza per cercare di portarla a un appuntamento anche se lei fa tra virgolette a difficile rispondendoti cose come non lo so, vedremo, fammici pensare, te lo faccio sapere, eccetera. Ad un certo punto però la tua vita in queste dinamiche deve cambiare e ragazze che ti danno risposte di questo tipo devono essere semplicemente flaggate come non interessate e avanti la prossima. 5. Farle regali. Come principiante semplicemente evita di fare regali a una donna perché rischi semplicemente di cacciarti nei guai. Infatti è abbastanza curioso come un detto old school in seduzione recitasse il più bel regalo che puoi fare a una donna e farle sentire la tua mancanza che se noti è esattamente l'incontrario di darle vai d'azione cioè quello che con questo video sto cercando di insegnarti a non fare. Stop! Non scappare subito! Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione